Carissimi amici, sono PaninoTube e oggi torniamo su Papers Grade Please Quel gioco dove noi diventiamo una maestra e dobbiamo correggere i compiti dei nostri studenti Era da un po' di tempo che non lo portavo, avevo portato qualche giorno fa un gioco molto simile Dove però, oltre a correggere i compiti, dovevamo fare altre cose che riguardavano la scuola Tipo cancellare la lavagna, interrogare gli studenti Prima di cominciare mi raccomando, lasciate qui sotto tantissimi like, condividete il video Iscrivetevi al canale e mi raccomando attivate la campanellina Se volete essere salutati qui sotto nei commenti, basta che ve lo chiedete E io vi saluto direttamente qui sotto nel commento Oppure se volete farmi qualche domanda, io cercherò di rispondere alla maggior parte di tutti i commenti Ma ora direi di partire, direi di cominciare e facciamo qui play Vai, 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 vediamo cosa toccherà da fare oggi Ah, è vero, poi ci sono anche questi livelli bonus Magari più avanti li possiamo fare Proviamo a fare tutti quanti i livelli bonus Va bene, va bene, si parte qua Lezione di geografia Che posto è quello? Come si chiama quello stato? E cosa dice Jupiter? Ma no! Jupiter è Giove, è un pianeta, è un pianeta Non è uno stato Giove Da quando Giove è diventato uno stato? La Repubblica di Giove Eh no, non esiste, non esiste Quindi mi spiace, cara amichetta, cara studentessa F, insufficiente Per chi non lo sapesse comunque F e A più sono i voti che noi diamo F sarebbe l'insufficienza A più invece sarebbe il voto massimo Ottimo Dieci Anzi, dieci più Allora, come si chiama quel posto? È il Dorado Ma non è il Dorado quello Quello non è il Dorado No amichetta, ma oggi cos'è? Nessuno ha studiato geografia Andate a studiare geografia Anziché presentarvi qua Andate a studiare geografia Oh, vabbè Questo era pure facile Ma anche gli altri erano un facile Stati Uniti USA Esatto Bravo amichetto Ti meriti la sufficienza Ti meriti Ottimo A più Vai Vai, bravissimo E magari poi stasera Andrai pure a festeggiare con i tuoi genitori Perché hai preso un ottimo voto Spettacolare E vai Anche qua abbiamo preso 120 banconote Stavo per dire 120 monete Ma quelle non sono monete Ma Ma Da quando i professori guadagnano così tanto? Da quando i professori guadagnano così tanto? Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Vediamo qua Cos'è quella roccia liquida Calda Che esce fuori dal vulcano Quando è rutta? Vabbè Ma questo è facile Infatti hanno indovinato Ha indovinato l'amichetta E la lava Quella che esce fuori Il caffè Meno male che non ha crocettato il caffè Perché Pensare che da un vulcano Esca fuori un caffè Cioè Veramente Bisogna avere tanta di quell'immaginazione Un'immaginazione di quello che neanche si potrebbe misurare Quindi Lava Esatto Bravo amichetto Hai studiato Esce fuori la lava Che cos'è più pesante? L'oro L'argento Oppure il piombo Ma Allora Qua effettivamente non sono anch'io I pesi di questi tre elementi Però presumo che il piombo sia più pesante Degli altri due elementi Perché l'oro Bene o male Si riesce anche a mettere tipo le gioielli Anche tipo Non so Le collane Noi le possiamo vedere Sia di oro Sia di argento Non ho mai visto comunque qualche accessorio Di piombo Vi immaginate un anello di piombo Cioè il piombo È così pesante Che magari il dito tende a scendere così Cioè se cade un anello di piombo Si rompe il pavimento Quindi penso che sia il piombo quello più pesante Spero Non lo so Io tocco a F E infatti è sbagliato Era il piombo Avevo indovinato Quello ho crocettato sbagliato Come si chiama la potenza erogata dal sole? Oh ma questo è proprio il mio ambito È il mio ambito Perché io sono un ingegnere energetico Quindi comunque Su queste cose Le sole ho studiate perfettamente Quindi L'energia che viene emanata dal sole No non sono i laser Perché ha messo laser? Laser Cosa c'entrano i laser con il sole? Ma perché? Non è neanche l'energia calda Ma è la potenza solare Solar power E qui ha crocettato sbagliato Quindi F Ciao Vai a studiare amichetta Vai a studiare E fatti vedere la prossima volta Che avrei studiato meglio Vai Perfetto Qua guadagniamo sempre più soldi Sempre più soldi Ma li guadagnassi io Tutti sti soldi nei giochi Li guadagnassi io Ok completa con la parola Con Cioè completa la parola Con la lettera corretta Vulcano Ha ragione Ha ragione Questo è un vulcano Quindi hai studiato Ma perché non davano a me sti compiti? Li avrei voluti io Ok Collega con Con la linea Il nome corretto Con l'immagine Allora Island Fishing road Fishing road è la canna da pesca L'ha collegato bene E anche l'isola Vai Ok Hai studiato Hai completato correttamente Il compito Cerca il nome nella seguente frase La mia macchina è molto vecchia E allora Il nome è macchina Che qua è car Molto non è un nome È un aggettivo È un aggettivo Molto vecchia Anzi in realtà Insieme a molto vecchia Che fanno un altro oggettivo ancora Vabbè Adesso non mi metto a fare tutte le regole di grammatica Comunque no Era macchina Quella da crocettare Sbagliato Michetto Sbagliato E ma dai Ma sti compiti facili Li avrei voluti avere io Quando facevo le scuole elementari Li avrei voluti io E vabbè Però mi toccavano altri compiti Facciamo qua un upgrade Del campo da calcio Cioè del coso per fare sport Poi un upgrade qua nella caffetteria E vai Guardate qua che bella caffetteria che avete ora E ora Upgradiamo qua il cortile Con degli scivoli ancora più belli No veramente bellissima Sta caffetteria La vorrei avere io Qui vicino casa Così mi vado a fare un bel cappuccino e cornetto E sto bene Sto bene Mi sta venendo pure fame Ora che ci penso A pensare al cappuccino e al cornetto Un cornetto al cioccolato Non mi dispiacerebbe Va bene Facciamo play Se è rimasto senza soldi Andiamo avanti Su su Veloce Veloce E ora cosa dobbiamo fare Vai Uuuuh La lezione dell'uovo Vediamo Vediamo Qua Come sempre devono proteggere l'uovo Quindi no graffi E né rotture di guscio Che poi mi chiedo pure io No Se magari il vostro uovo Si dovesse rompere Perché non è portato un altro nuovo Che vi presentate con questo Cioè qua Io apprezzo che gli abbia messo il cerotto Però no 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 Il tuo uovo Non doveva avere né graffi E né rotture sul guscio Quindi F Anche se hai provato a ripararlo col cerotto Te invece cosa ci porti E invece qua Questa amichetta è stata brava Si è preso proprio cura dell'uovo Gli ha fatto pure Tutta quanta la decorazione intorno Il fiocco di sopra E anche il ciuccio Quindi brava amichetta Brava A più E ti metto Ottimo Quello che è 10 più E qua invece è l'uovo normale Vabbè non ci sono né graffi Non c'è nulla di particolare Però Ha tenuto bene Non ci sono né graffi Né rotture Quindi bravissimo A più anche a te Vai 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 Spettacolare E vengo pagato ancora Per aver messo qualche Calcolati ci sono nel biscotto Ce ne sono cinque Ha contato bene Quindi bravissimo amichetto A più A più Suficiente Calcola No 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 Allora amichetta Qui non ci parliamo chiaro A parte che tu mi hai risposto È un semplice calcolo matematico No Un'addizione Dovete fare 257,52 Più 487,61 Quindi esce fuori un numero Ma poi tu mi vieni a scrivere Ciambella Ma come Danot Per chi non lo sapesse Significa ciambella Perché ciambella Perché Poi seconda cosa Io sono uno Che mi viene fame Facilmente appena penso al cibo Se tu mi scrivi Un qualcosa Riguardante il cibo Mi fai venire fame Quindi adesso amichetta Io ti metto l'insufficienza Ma Devi portarmi una ciambella Se vuoi recuperare Vai amichetta E portami una ciambella Ma Ma dai Ok Completa Con il numero approssimato No 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 Con il numero appropriato Tra l'altro Allora 5,10,20 Qual è il numero che manca? Il numero che manca È 15 E tu mi hai messo 7 Ma come Con quale ragionamento Hai pensato che il numero che manca Fosse 7 No Non è 7 Insufficienza E vai a studiare meglio Vai a fare calcoli meglio Ok Vai Però l'importante È che Arrivino i pagamenti L'importante è quello Sto diventando sempre di più Una maestra Molto Molto Se vera Andiamo avanti qua E direi di fare ancora qualche livello Ok Dai nome del continente corretto No 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 Ma perché mi è scritto Billy Ma Billy non è neanche un nome di un continente Non è un nome di un continente Billy è un nome che si dà A una persona Oppure ad un cane Io ho visto pure dei cani che si chiamano Billy Quindi comunque Ma non ho mai visto un continente Che si chiama Billy Mai visto Insufficiente E te ne vai Via via Non voglio neanche più vederlo Fuori dalla mia classe Definitivamente Licenziato Come licenziato Ma si possono licenziare gli studenti No non si possono fare Va bene va bene Che cos'è più grande La terra La luna O l'Australia Qua hai indovinato bene La terra La terra è più grande Fra queste tre cose È più grande della luna Ed è anche più grande Vabbè È più grande dell'Australia Perché l'Australia È un continente Che sta all'interno della terra Quindi ci sta È come se io dicessi che Sono più grande io O la mia mano È normale che la mia mano Essendo che fa parte di me È più piccola di me Quindi bravissimo A più Bravo amichetto Bravo Ora completa Con le cose corrette No con il disegno corretto Abbiamo nord che sta sopra Sud che sta sotto Poi abbiamo est Che tecnicamente Dovrebbe stare a destra E ovest Che sta a sinistra Ma perché mi ha invertito est Con ovest L'est deve andare a destra A destra Deve andare Di qua deve andare Beh lei invece mi ha messo al contrario Quindi F Mi spiace Hai sbagliato lì Eh se tu indovinavi lì Guarda ti avrei dato pure ottimo Però tu mi vai a sbagliare All'ultima cosa Però secondo me sarebbe bello da mettere Tipo i voti intermedi Tipo F Poi qualcosa che sta in mezzo E poi a più Perché comunque ad esempio Questo amichetto Per metà l'ha fatto corretto Quindi perché gli devo dare l'insufficienza Quando per metà l'ha fatto giusto Vabbè Non importa Se il gioco dice che devo comportarmi così Io mi comporto così Vediamo cosa possiamo migliorare Miglioriamo qua la caffetteria Sì sì così poi Dopo vado a farmi una bella colazione qua dentro Mamma mia ma che bella sia caffetteria Va bene dai direi di fare l'ultimo livello Vediamo che cosa abbiamo da fare Su 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 veloce veloce No grazie E facciamo quest'ultimo livello Ok Cos'è che causa l'erosione Il vento Il movimento dell'acqua Oppure tutte quelle Ma non lo so se il vento causa erosione Cioè E l'acqua più che altro che fa erosione Ok ok Andiamo avanti Andiamo avanti Le rocce sono costruite da minerali Vero o falso? Ma allora sì Le rocce sono costruite da minerali Quindi è falso Amichetto falso Mi spiace Vai a studiare meglio Ok E ora qua cosa succede? Quale di queste forme di terra Hanno un picco? La pianura La montagna Oppure la valle Beh la montagna Sì perché la montagna Sare così a un picco Una punta Quindi brava amichetta Hai studiato perfettamente E vai e vai E lì purtroppo Prima ho sbagliato E ho sbagliato E vabbè pure Le maestre come me Capita di sbagliare E quindi mi hanno dato di meno E mi hanno dato pure B E vabbè ci sta Comunque l'amichetta Mi aveva indovinato E vabbè E vabbè Prossima classe Vediamo qua cosa facciamo Uuu L'esperimento del vulcano Questo è il mio preferito Il mio preferito Va bene va bene Iniziamo a versare qua Prima parte Così Poi seconda parte Terza parte Quarta parte E quinta parte Ok Il vulcano spara coriandoli Eccolo qua Però scusate Ora io mi collego alla domanda di prima Che c'era inizio video Quella del vulcano Che diceva Che cosa esce quando erutta il vulcano La lava Il caffè Poi l'altra che non mi ricordo E la lava esce fuori Però perché qua invece escono coriandoli Ma che vulcano è che escono coriandoli Che vulcano è Ma poi perché devo completare io Il vulcano degli studenti Io sono la maestra Devo correggere i vulcani che fanno No Non devo essere io a fargliele E vabbè Becchiamoci questi vulcani da fare E ce li becchiamo Mettiamo prima qua L'acquetta blu Poi l'acquetta viola Acquetta blu E acquetta viola E vai E anche sto vulcano È stato fatto Perfettamente Vai Ben fatto A più Perfetto Perfetto Direi di fare una cosa Torniamo qua Al menu principale In questo modo E direi anche di finire qua Questo video Fatemi sapere cosa Ne pensate Fatemi sapere se magari In un prossimo video Proviamo a fare i livelli bonus Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Così vedete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo in un prossimo video E come sempre vi auguro Una buona giornata Una buona serata E una buonanotte Ciao a tutti E mi raccomando Studiate Perché il professor Panino È pronto ad interrogare Ciao